Scopriamo insieme il corso di laurea in matematica. Che cos'è la matematica? La matematica può essere un pensiero astratto, arti figurative, delle forme. Anche nella musica c'è la matematica, eppure nella natura. Le applicazioni nella matematica sono innumerevoli. Può essere infatti utilizzata in economia e finanza, informatica, ingegneria, modellizzazione, ricerca operativa, sistemi di voto e magia. Un matematico è una macchina che converte caffè in teoremi. A cosa ti preparerà la laurea in matematica? È un percorso che forma laureati con base solide e spiccate capacità logiche e analitiche, molteplici sbocchi professionali anche in posizioni di irresponsabilità. È un percorso impegnativo ma che dà molta soddisfazione. È un corso di laurea dove lo studente non è uno fra i tanti ed ha anche un efficace servizio di tutorato. C'è un test d'ingresso che non è selettivo per la laurea triennale. La preparazione fornita dalla laurea triennale matematica permette l'accesso anche ad altre lauree magistrali, per esempio informatica, fisica o ingegneria. La laurea magistrale a cui puoi accedere dopo la laurea triennale dura due anni e, se vuoi, puoi anche fare il dottorato di ricerca che dura tre anni dopo la laurea magistrale. Per accedere a questa laurea triennale puoi anche ottenere delle borse di studio date dall'INDAM, Istituto Nazionale di Alta Matematica, e dalla Scuola Superiore dell'Università di Udine. Cosa studierai? La triennale è composta da tre anni, quindi il primo anno studierai Algebra 1, Analisi Matematica 1, Aritmetica, Geometria 1, Informatica, Linguaggio Matematico, Strumenti Info per la Matematica, Lingua Inglese. Nel secondo anno studierai Analisi Matematica 2, Analisi Numerica, Fisica Generale, Geometria 2, Logico-Matematica, Teoria di Galois. Nel terzo anno studierai Analisi Matematica 3, Meccanica Razionale, Ottimizzazione, Probabilità 1, Complementi di Fisica Generale, Crediti a Scelta Autonoma. In più, avrai la tesi di laurea da fare. Dopo la triennale, il 90,1% degli studenti che si è laureato ha ottenuto un posto di lavoro, invece dopo la magistrale il ben 83,9%. Il corso di laurea matematica fa per te? Se la risposta è sì, contattaci per avere maggiori informazioni sulle pagine web, sulle pagine del tutorato del corso di laurea, tutoratomatematica chiocciolauniud.it, oppure alla mail della manager didattica svetlana.martinachiocciolauniud.it.